Buonasera a tutti, questa sera voglio rivolgermi in modo particolare a tutti coloro che molto probabilmente stanno prendendo sotto gamba quello che è successo e quello che potrebbe ancora succedere. A quanto appreso in alcune città italiane, e faccio riferimento in modo particolare alla mia città di origine, Caserta, ci sono molti giovani che incuranti o forse credendosi forti probabilmente per la loro età o per mettersi in mostra, questo non lo so e non mi interessa, però escono senza mettersi le mascherine, non mantenendo la distanza tra di loro. Guardate, la salute è di tutti, restate a casa perché davvero insieme ce la possiamo fare. Non è così che si vince una guerra, la guerra si vince stando uniti e facendo tutti dei sacrifici. Pensateci, a buon intenditor poche parole, coraggio, andiamo avanti insieme, ne usciremo davvero vincitori.